Allora, io sono Fabio Lugano, scrivo su Scenari Economici, sarò breve perché abbiamo lasciato per completezza molto spazio all'avvocato Pecchioli e io sarò molto, il più pregno diciamo, il più grande. Io invece per fortuna purtroppo parlo di un tema un po' più breve perché è ancora in corso ed è un po' meno tragico, anche se molto più costoso forse in questo momento dal bail-in bancario, cioè il decreto 23.2015, il famoso Jobs Act. Opla, stiamo andando avanti. C'è stato, ecco qua. Allora, il Jobs Act contiene due parti, una parte di carattere economico con la quale viene definito praticamente la defiscalizzazione degli oneri contributivi pensionistici, quindi praticamente le aziende che assumono a tempo determinato hanno il vantaggio, avevano il vantaggio per il 2015 di non pagare i contributi pensionistici, pare il 31% del reddito lordo, fino a un massimo di 8.060 euro annui e vedremo a cosa corrisponde questo, corrisponde a un reddito di 26.000 euro lordi per il lavoratore dipendente e questo era, diciamo, l'incentivo economico. A fronte di questo incentivo economico che veniva dato alle aziende, vi era stato un forte intervento normativo, forte intervento normativo che viene giustificato, è stato giustificato, come ha detto giustamente l'avvocato Pecchioli, tramite la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea scrive all'Italia, ma scrive anche ad altri paesi dicendo, cari amici, il vostro mercato del lavoro è troppo rigido, avete un sistema contrattuale che non va bene, che è troppo centralizzato, non si può licenziare nei vostri paesi se non per casi difficilissimi e così via, le grandi aziende non verranno mai a investire da voi, quindi cari paesi dovete rivedere il vostro diritto del lavoro e dovete soprattutto renderlo più flessibile. In Italia questo ha generato Jobs Act, in Francia sta generando la loi d'emploi, la stessa cosa, noi abbiamo usato l'inglese Jobs Act, loro hanno usato il francese, le leggi sull'impiego, ma la zuppa è sempre la stessa, la differenza è come è stata ricepita la questione in Francia e in Italia, in Francia stanno facendo sulla loi d'emploi una lotta fortissima e non è detto che la legge riesca a passare, non è detto che il governo Hollande come in tanti altri temi sia obbligato a tornare indietro. In Italia invece il Jobs Act, forse perché anche accompagnato da questo grosso incentivo economico, è passato veloce e in dolore, piuttosto in dolore. Ora, cosa giustificava il Jobs Act? Il fatto che noi avevamo e abbiamo una disoccupazione a due cifre, cioè avevamo il 12%, adesso abbiamo l'11,6 e questo ci dice in ripartenza come sia stato così efficace il Jobs Act, ma lo vedremo anche pian piano. Abbiamo detto di quello che è l'incentivo di carattere economico, molto rapidamente ci torneremo perché sarà soprattutto a trattazione sui costi economici, vediamo rapidamente quelli che sono stati invece i ritocchi di carattere giuridico. Torni dietro un attimo dicendo che l'incentivo veniva dato non solo, e questo è il problema, alle nuove assunzioni, ma veniva dato anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato. Ora, quindi, uno dice che bello, non sono più un lavoratore a tempo determinato, divento a tempo indeterminato, è giusto che l'azienda ne goda. Peccato che la parte giuridica sia stata su questo tema molto rigida, sia stata molto dura nell'aumentare la flessibilità. Flessibilità significa capacità di licenziamento dei dipendenti, infatti è stato introdotto il cosiddetto contratto a tutele crescenti. Questo vuol dire che per i primi tre anni c'è una notevole libertà di licenziamento anche per elementi di carattere economico, quindi se l'azienda non guadagna l'abbastanza può licenziare abbastanza rapidamente. Questo licenziamento non ha da origine a nessun obbligo di riassunzione, solo ad un obbligo di risarcimento, pari a due mensilità per ogni anno in cui si è stati dipendenti fino al terzo anno. Ora, l'obbligo di riintegro quasi assoluto per le aziende sopra i 15 dipendenti che sussisteva prima viene a essere estremamente ridotto, praticamente l'obbligo di riintegro è rimasto solo per i problemi per i licenziamenti discriminatori, in caso di discriminazione il caso viene deciso da un giudice o in limitati casi di carattere disciplinare. In tutti gli altri casi il licenziamento anche in aziende sopra i 15 dipendenti non porta più al reintegro ma può portare a un semplice rimborso. La possibilità quindi è stata introdotta, la possibilità di un patteggiamento col dipendente. Il dipendente che sa che la sua posizione è diciamo debole e l'azienda che sa che comunque la sua posizione non è fortissima possono aggiungere un patteggiamento, questo toglie la possibilità al dipendente in cambio naturalmente di un risarcimento di accedere alla giustizia del lavoro. Vi è stato il riordino dei contratti con l'abolizione del COCO PRO che era una forma molto flessibile e di altre forme flessibilizzanti ma abbiamo visto che queste diventano praticamente inutili. È stato liberalizzato e ampliato il part time orizzontale e verticale dando un limite alle ore che si può fare in più oltre il part time ma comunque allargandone molto quella che era l'entità. È stato ammesso il dimensionamento del lavoro quindi si può essere degradati purché si mantenga la stessa paga. È stata aumentata alcune tutele per la conciliazione con la vita lavoro, alcune tutele maggiori sulla maternità e sulla paternità. Sono stati rivisti alcuni sistemi di tutela per il lavoro ma comunque sempre limitati perché coprono non la totalità dei disoccupati ma solo dei disoccupati che hanno perso il lavoro e solo per 24 mesi indipendentemente che trovino il lavoro o no, è stato creato l'assegno di ricollocazione che doveva essere utilizzato per la collocazione attiva dei lavoratori, cioè doveva servire a preparare i lavoratori e a rintrodurre il mondo del lavoro. Peccato che questa sia l'unica parte che non sia mai stata attivata del Jobs Act, cioè la parte attiva di ricollocazione del lavoro non è mai stata, non è ancora stata attivata. E quindi c'è la famosa questione del controllo a distanza, vi ricordate, relativa alla possibilità di controllare tramite cellulare e così via il lavoratore per cui ci sono una serie di tutele legate alla privacy ma comunque è stata introdotta. Diciamo che questa mia trattazione però non voleva essere gius lavoristica, quindi a me interessa essenzialmente non solo un avvocato, essenzialmente quella parte di carattere economico e ci passiamo subito. Allora abbiamo detto che il Jobs Act concede, ha concesso nel 2015 la completa defiscalizzazione degli oneri contributivi, cioè gli oneri contributivi non si sono pagati, allora qualcuno si è messo a fare dei conti e li ha fatti in questo caso la Will. La Will ha detto benissimo, ammettiamo che io sia un datore del lavoro un poco cattivo, assumo una persona e la licenzio entro il primo anno. Cosa succede? Succede questo, la Will si è messa a fare il conto del reddito mensile che può essere pagato a seconda dei vari scaglioni e praticamente ha calcolato che se il datore di lavoro viene a assumere a tempo indeterminato ma licenzia entro il primo anno utilizzando la flessibilità, guadagna da questa defiscalizzazione, ben 5.803 euro. Qua avete tutti i calcoli perché nonostante debba pagare un indenizzo di licenziamento, l'indenizzo di licenziamento è comunque molto inferiore a quello che è stato il risparmio dei contributi. Quindi con il Jobs Act abbiamo questa magnifica cosa per cui l'azienda non solo assume ma ha una sorta di incentivo a licenziare. Ed ecco la seconda parte. Addirittura questo incentivo si incrementa con la crescita, con il numero degli anni che passano. Al terzo anno la nostra azienda, se è un'azienda appunto cattiva oppure non interessa nel lavoratore, oppure si trova dove licenziare e licenzia il terzo anno avrà un vantaggio economico, calcolando naturalmente il rimborso, il rifacimento che deve essere dato al lavoratore, avrà un vantaggio economico di 15.433 euro. Lo vedete qua, anzi fino a 18.000 euro perché varia seconda. La classe ottimale per licenziare, brutalmente detto, la classe ottimale per licenziare è quella dai 22 ai 25.000 euro di reddito. In quella classe voi avete addirittura un vantaggio di 18.805 euro. Quindi questo da cosa deriva? Deriva dal fatto che io ho dato un incentivo estremamente forte all'assunzione perché il 31% sul costo del lavoro è veramente un incentivo fortissimo e questo incentivo è superiore al disincentivo, pare le mensilità di risarcimento che devo dare al dipendente, che ho messo in caso di licenziamento. Cioè sono stato troppo flessibile, sono stato talmente flessibile che il datore di lavoro interesse ad assumervi, licenziarvi entro i tre anni, pagarvi tutto quello che vi deve pagare, attenzione, non frodare niente, pagarvi fino all'ultimo centesimo e portarsi a casa ancora rispetto a un altro posto di lavoro 18.000 euro, soprattutto se siete in quella fascia. Comunque portarsi a casa dei bei soldi. Sì, esatto. Il problema è stato poi che questo tipo di incentivazione non è stato dato solo alle nuove assunzioni, ma anche alle trasformazioni, cosa che non è di per sé, cioè è giustificata, è vero, noi abbiamo dato, abbiamo trasformato tanti lavori in tempo indeterminato, che prima era in tempo determinato. Il problema è che con la flessibilità nel licenziamento anche lavoro e tempo indeterminato diventano almeno meno certi. Allora, una delle famose comunicazioni maggiori che è stata fatta all'inizio di quest'anno da parte del governo è stata quella del noi abbiamo creato 800.000 posti di lavoro, per la precisione 764.000, cari gufi state zitti. in realtà, cari gufi, i gufi sono degli animali molto carini e che soprattutto sono il simbolo della saggezza, c'è un motivo, e poi vanno sempre di notte. In realtà, non sono stati 800, sì, sono stati 764.000 posti a tempo indeterminato, ma abbiamo detto già prima che con tutte le crescenti e con la parziale abolizione dell'articolo 18, questo concetto di tempo indeterminato è un po' meno forte di quello che era prima. In realtà si è trattato di 578.000 trasformazioni, quindi gente che già lavorava a tempo determinato, ma gli hanno cambiato il contratto, e di 186.000 effettivi nuovi posti di lavoro. Ora, potete capire la trasformazione, io sono a tempo determinato, pago i contributi pari al 31% della mia paga lorda, vengono pagati i miei datori di lavoro. Da domani mi trasforma a tempo indeterminato e paga zero. Cavolo, chi non lo farebbe? Quale datore di lavoro non lo farebbe? Sarebbe un po' fesso, tenendo conto che poi vi può anche licenziare dopo. Non è stata una trasformazione a vita. E quindi c'è il dubbio che molti datori di lavoro abbiano fatto queste trasformazioni non perché giustificate dal ciclo produttivo, ma perché queste trasformazioni siano state una speculazione sulla legge. Come possiamo capire che questa sia stata la speculazione della legge? Beh, la domanda dipende dall'andamento del ciclo economico è la domanda di lavoro normale. Se il ciclo economico è dell'1%, dobbiamo avere un numero di assunzioni per il Jobs Act pari all'1% in crescita, perché se l'economia fosse cresciuta del 10 avremmo avuto 10% di lavoro in più. E soprattutto dovremmo vedere una stabilità nel corso dei mesi oppure una variabilità a seconda del lavoro nei singoli mesi. Mesi in cui c'è più domanda di lavoro avremmo più assunzioni, mesi con meno domanda di lavoro, meno assunzioni, ma comunque una certa stabilità. Infatti no. Potete notare come dicembre, che è un noto mese in cui le attività economiche produttive soprattutto vanno a bomba, produciamo tutti i panettoni in Italia, solo panettoni e torroni, soprattutto torroni. Anche cravate, esatto. Potete notare come le assunzioni abbiano avuto un leggero, le trasformazioni, un leggero picco a dicembre 2015. Leggero, quindi non vi è stata sicuramente nessuna spinta di carattere speculativo. Ora, naturalmente questo viene a postare un corso, cioè questi lavoratori dovranno prendere la pensione e quindi qualcuno deve versare contributi per loro. Lo Stato verse contributi che non vengono più versati dai privati, se no questi poveracci non prenderanno neanche la pensione, come tanti altri comunque in Italia, non si preoccupino. Allora, quello che era stato lo stanziamento del governo è questo, 1,88 miliardi per il 2015, 4,88 miliardi per il 2016 e 5,03 miliardi per il 2017, in totale 11,8 miliardi. Dove vanno questi soldi stanziati per il Jobs Act? Vanno all'Inps, vanno a sostituire i contributi non versati dai lavoratori per la loro pensione. Ora, c'è una ricercatrice molto brava, molto brava e molto cattiva, io un po' le invidio perché ha una cattiveria che è brava, è brava e dice tante verità, si chiama Marta Fana, è cattiva per Renzi proprio, la quale si è messa a calcolare effettivamente quella che sarà la spesa per il Jobs Act. La spesa non è facile da calcolare, perché? Quello che viene ad essere la detrazione per singolo lavoratore dipende dalla classe di reddito, quindi noi dobbiamo, se uno guadagna 12 mila euro lordi, quello che sarà il suo vantaggio dal Jobs Act sarà il 31% del 12 mila euro annui, se uno guadagna 25 mila sarà il 31% di 25 mila, quindi a seconda del reddito di ogni lavoratore c'è un diverso vantaggio che il lavoratore o meglio l'azienda che l'assumma ha dal Jobs Act, fino a un massimo di 8 mila e 60 euro che corrispondono ad un reddito di 26 mila euro lordi all'anno, ok? Oltre c'è un tetto, oltre se viene pagato di più il lavoratore l'azienda comunque ha questo tipo di vantaggio. Marta Fana non si è spaventata, si è messa lì, ha preso, questo dato non viene fornito dall'Inps, l'Inps non dice quanto hanno, come sono divise queste classi di lavoratori che hanno avuto questo vantaggio, però lei si è fatto un calcolo diverso, ha visto quelli che erano gli altri lavoratori nella distribuzione, ha ipotizzato che i nuovi lavoratori si distribuiscano come quelli già presenti, ha fatto un'ipotesi di questo genere. Allora, lei ha fatto questo calcolo e da questo calcolo, io non ve lo presento tutto, se no stiamo qua fino a domani realmente e ci addormentiamo tutti, me compreso, ha calcolato che la spesa per il Jobs Act per il 2015 non non è 1,8 ma saranno 2,5 miliardi di euro. Per il totale nel triennio 2015, 2016, 2017 pari a 16,95 miliardi, quindi il governo dovrà trovare una bella copertura di 5,7 miliardi extra nel triennio per coprire il Jobs Act. Ma adesso viene il bello. Poi, cosa avviene comportare questo? Questo calcolo che ha fatto, lei l'ha fatto ipotizzando che il lavoratore assunto rimanga ai tre anni e rimanga dipendente per i tre anni. Se questo avviene, calcolando che i nuovi lavoratori sono stati 186 mila, ve lo ricordate il numero che ho detto prima all'inizio, 500 mila trasformazioni, 186 mila nuovi posti di lavoro. Abbiamo che il costo complessivo per il singolo lavoratore derivante dal Jobs Act, cioè il costo del singolo posto di lavoro creato, è pari a 91 mila euro, cioè ogni lavoratore costa allo Stato per il triennio 91 mila euro, pari a 30 mila e 300 euro annui. Pensate voi, per 186 mila persone, lo Stato viene a spendere a testa questo. Cosa si sarebbe potuto fare con tutti questi soldi? Ora, stiamo, però bisogna anche dire che non è detto che chi viene assunto col Jobs Act il primo anno termini il trimestre, lo Stato paradossalmente ha un grosso interesse a che le aziende licenzino, perché se l'azienda, io ti assunto a tempo determinato, sto godendo di questa defiscalizzazione, dopo ti licenzio, io non ti pago più la decontribuzione e quindi ha un vantaggio, ok? Lo Stato, come con l'Inps, guadagna dalle disgrazie private. La dottoressa si è messa a fare questo calcolo e ha detto, benissimo, se io comprendo tutti i contratti a tempo indeterminato e vedo che nel triennio solo il 59% arriva a termine, il 41% dei contratti a tempo indeterminato cessa prima, con una certa distribuzione nei tre anni. Allora, applico questa cosa, allora se effettivamente invece i contratti a tempo indeterminato non giungeranno alla fine dei tre anni, allora avremo un disavanzo da coprire solo di 2 miliardi, non di 5,7, ok? E avremo una spesa per singolo contratto, quindi per singolo nuovo lavoratore, pari a 74.370 euro per triennio, pari a 24.790 euro all'anno, all'anno. Facciamoci però, tutti contenti, bello, sono stati licenziati, certo, ma il nostro Jobs Act non doveva servire a creare posti, cioè a questo punto l'incentivo l'ho speso meno, ma nello stesso tempo non mi è servito, perché il 40% dei miei lavoratori sono di nuovo a spasso. Una cosa interessante che vedremo all'inizio di questo 2016 è quanti di questi lavoratori, come saranno le assunzioni a tempo determinato, adesso che il Jobs Act ha molto ridotto il suo effetto, perché nel 2016 non vi è più la decontribuzione completa, ma una riduzione al 40%, quindi l'effetto è molto più basso. Posso già dirvi che i primi segnali sono stati molto negativi, con una diminuzione delle assunzioni e da un aumento della disoccupazione. Allora, quindi col Jobs Act, come è stato creato, abbiamo sostituito soprattutto un tipo di precarietà con un altro, cioè i contratti a tempo determinato sono stati sostituiti da contratti teorici a tempo indeterminato. Teorici perché? Prima di tutto, fino per tre anni hanno le famose tutele crescenti e anche quando saranno a piena tutela non avranno più la tutela del vecchio articolo 18, ma avranno una tutela molto ridotta. In secondo suogo questo come è avvenuto? Con un costo estremamente elevato per la collettività. 20 miliardi è più della metà di quello che si paga di IMU, per dare un'idea. Cioè è una cifra all'interno di quel poco che si può toccare del bilancio pubblico dello Stato italiano, è una spesa enorme, gigantesca. In realtà molti esperti hanno concordato una cosa, il Jobs Act non doveva favorire le trasformazioni, doveva defiscalizzare esclusivamente le nuove assunzioni e solo con garanzia che giungessero a tot numero di anni minimo, magari dando un contributo annuale crescente e così via. Facendo così in realtà vedremo probabilmente delle fortissime distorsioni con un calo forte del lavoro dipendente a partire dal 2016. Cosa si sarebbe potuto fare con tutti questi soldi senza Jobs Act? Prima di tutto le politiche di formazione attiva. I nostri lavoratori molto spesso non sono preparati a fare un lavoro diverso. Ora ci sarebbe potuto predisporre dei corsi pagati sia per l'azienda sia per il lavoratore che così si poteva mantenere in quel periodo e mandarle imparare un nuovo mestiere che era necessario su domanda delle aziende che ne avevano bisogno. Io ho bisogno di un tornitore CNC, mi esci tu che sei un ex falegname, ti mando sei mesi a imparare come si usa un tornitore CNC, intanto ti do una paga che non muori di fame quei sei mesi, dopodiché ti mando all'azienda che ne fa richiesta. Ho bisogno di un pizzaiolo, ti mando imparare a fare la pizza, quando sai fare la pizza ti mando il pizzaiolo in pizzeria. Ho bisogno di uno che sappia cucinare, visto che c'è il boom dei cuochi, ti mando a una roba e di cucina e intanto ti do una paga minima, questo sì un vero contributo di occupazione, che tu non muori di fame nel periodo che fai il corso. Ho detto prima che questo sarebbe previsto dal Jobs Act, peccato che sia l'unica parte che non è stata attivata. Politiche per il riancio dei consumi. Allora c'è un bel cosa in Italia molto interessante, qualcuno, soprattutto Borghi, tanto per non fare un nome a caso, che dovrebbe essere qua, è uno che ci tiene a notare che se le aziende non producono, non assumono una cosa molto banale, una cosa che sembra banale ma che a Roma secondo me non è stata ancora ben compresa e le aziende producono solo se la gente consuma, soprattutto in Italia dove l'estero conta solo per il 25% della produzione industriale. L'altro 75% è ancora per il mercato interno, ma è anche ovvio, il vostro panettiere non esporta i baghetti in Francia, le vende a voi, se voi non le potete comprare non le comprate, ok? E lui non vende, a parte lui che ha dieta. Oh, guarda, io conosco benissimo questo settore, se vuoi ti faccio un discorso ad hoc. Quindi caro Rinaldi devi ingrassare, questo è il destino. Esatto. Allora vediamo com'è andata la produzione industriale da Tistat e i consumi negli ultimi due anni. Questo è una vendita al dettaglio, vedete che bei segni meno che ci sono. Non abbiamo mai avuto una crescita mensile superiore all'1,9, abbiamo avuto un paio di piccoli picchi, per il resto siamo stati veramente bassi nelle vendite al dettaglio, quindi non ci sono stati consumi. E infatti la produzione industriale ha avuto dei picchi mensili, ma siamo sempre a livelli molto bassi. Ora, il problema quindi è molto semplice, se non aumentano i consumi non aumenta la produzione industriale, se non aumenta la produzione industriale le aziende non assumono. E non solo, visto che si veniamo da una crisi estremamente prolungata con un calo della produzione industriale a partire dal 2011 molto forte, prima che assumano ci vorrà un bel po' di tempo, perché dovranno utilizzare la capacità produttiva ad essere utilizzate che hanno in corpo. Quando qualcuno vi dice, se domani battessimo moneta ci sarebbe l'inflazione, no, perché l'inflazione deriva da un sovraccarico del sistema industriale e noi abbiamo capacità produttiva in questo momento da vendere. Avremmo anni, ma anni, prima che questa capacità produttiva venisse riassorbita. Veramente anni. Quindi la terza cosa che non si è fatta è stata politica di sostegno del lavoro autonomo. Dal 2008 ad oggi, sono calate, dal 2008 al 36 2015, abbiamo avuto 260.000 aziende autonome in meno. Questi non sono solo 260.000 lavoratori disoccupati in più, ma sono un indotto di dipendenti diretti che li fa variare intorno ai 400-450.000. 450.000 sono ben tre volte gli assunti da Jobs Act. Perché il lavoratore autonomo non viene considerato un lavoratore, ma un lavoratore autonomo non rompe le scatole allo Stato, non rompe le scatole a nessuno, lavora, si guadagna lui i soldi e si rispende. Che sarebbe la via migliore e più rapida per aumentare l'occupazione, perché la via che inizia il giorno dopo non ha bisogno neanche grossi investimenti, se li fa lui. Quindi invece il lavoro autonomo fino ad oggi è stato veramente dimenticato dallo Stato. Morale della favola, Jobs Act costato un'ira di Dio, costato tantissimo, ha reso pochissimo e non ci si può aspettare che renda lo stesso in futuro, perché ormai i suoi effetti sono finiti. Il 40% che viene dato da 2016 2017 avrà effetti minimi. Grazie.